Allora, abbiamo dato la nostra opinione come gruppo misto del Senato e abbiamo segnalato al Presidente la diffusa opinione presso il gruppo misto che sia visibile nelle scelte che andranno fatte l'effetto del referendum appena fatto. Ci aspettiamo che si possa con il prossimo governo riuscire a dare la possibilità al Parlamento di esprimere in un'ampia maggioranza una legge elettorale che restituisca al Parlamento il peso che la Costituzione, grazie a Dio tuttora vigente, gli attribuisce. Abbiamo come gruppo misto delle espressioni anche variegate, infatti abbiamo qui con noi il rappresentante delle componenti Italia dei Valori, da cui passo la parola. Grazie. Noi dell'Italia dei Valori, come voi sapete, ci siamo impegnati molto nell'approvazione delle riforme. Abbiamo espresso al Presidente Mattarella la nostra idea di andare al voto, ma di andare al voto con una riforma elettorale, una legge elettorale riformata che possa permettere ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e possa permettere al Paese di avere anche un governo stabile. L'IDV ha detto di essere disponibile anche a un governo di responsabilità nazionale, nel quale l'IDV sarebbe anche disponibile a far parte, ma deve essere un governo con la più ampia partecipazione possibile, che deve risolvere non soltanto il problema della legge elettorale, ma anche dei conti dello Stato e anche prendere il tempo possibile per portare il Paese in sicurezza. Tempo breve vuol dire avere una legge elettorale sicura e noi siamo convinti che stiamo andando verso questa direzione. Grazie. Grazie. Grazie.